Grazie Presidente. Io vorrei iniziare con una cosa. Io vorrei iniziare esprumendo tutta la solidarietà di quest'Aula, la vicinanza assoluta di questo Parlamento nei confronti di quegli agenti che ieri sono stati aggrediti a Torino in modo criminale, mentre compievano il loro dovere e che hanno rischiato parecchio e che se i colleghi non fossero usciti dalla quest'Aula per aiutarli non sappiamo come sarebbe finita. Noi siamo questi, siamo quelli che difendono sempre e da tutti i punti di vista le istituzioni. Noi ieri siamo usciti immediatamente dopo questi fatti molto gravi esprimendo quella solidarietà e vicinanza di cui parlavo adesso. Lo dico perché la Presidente del Consiglio, proprio anche in queste ore e nelle ore successive ai fatti, si chiedeva ma chi sarà magari della sinistra che interverrà in solidarietà? Noi. Io però non ho sentito la stessa attenzione e la stessa vicinanza della Presidente del Consiglio dopo i fatti di Pisa. E questo mi ha molto stupito. E sapete perché mi ha stupito? Perché i fatti di Pisa hanno colpito tutte le cittadine, tutti i cittadini italiani, a prescindere dalle loro opinioni politiche. E sapete perché? Perché i fatti non si sono svolti come in qualche modo ha raccontato il Ministro Piantedosi, come se fosse, non lo so, lo sbarco in Normandia, l'assalto a un fortino, la presa della Bastiglia. Lì c'erano un centinaio di ragazzi, esattamente uguali a quelli che fino a pochi minuti fa erano su queste tribune, che sono esattamente i nostri figli. A Pisa c'erano ragazzi che volevano manifestare il loro dissenso su cose importanti, ragazzini delle scuole superiori, senza quelle organizzazioni paramilitari che qualcuno... No, no, no... Colleghi, per favore... Come vi ho chiamato prima, non mi costringete a richiamare anche voi. Il controcanto, il basso continuo, il bluesio continuo esistono in musica, non in quest'avola. Prego, vada avanti. Presidente, perché ci hanno spiegato che loro sono contro la compressione del dissenso di conseguenza, dimostrano di non essere coerenti con le cose che dicono. Lì c'erano i nostri figli, lì c'erano le nostre figlie e i nostri figli che facevano una cosa per cui noi dovremmo ringraziarli e cioè dimostrare di avere una coscienza politica, una coscienza civica e di non aver paura e di non essere mai intimoriti nel dichiararla, nel esprimerla. Quella è la vera coscienza che tutti dovremmo avere. E invece cosa è successo? Sono successe cose gravi. Sono successe cose gravi perché il ministro Piantedosi ha dato ordine alle forze di polizia di intervenire e di picchiare gli studenti. Ma certamente no, ma nessuno qua è stupido e nessuno da questa parte prova a strumentalizzare quello che è successo. A Pisa è successa però una cosa sbagliata? Per cui si devono cercare le responsabilità? Eh, questo è molto probabile. Ma non è che lo dico io. L'ha detto il ministro dell'interno, l'ha detto il questore, l'ha detto il prefetto. Approfondiremo. A me sembra assolutamente evidente. Dopodiché devo dirvi, come è stato gestito l'ordine pubblico in due manifestazioni molto complicate dell'ultimo fine settimana a Milano? Molto bene. Per cui il tema non è la condanna della polizia o delle forze dell'ordine. Qui il tema è il controllo democratico di come viene gestito l'ordine pubblico e più in generale di come agiscono le forze di polizia. Questo è un pezzo di democrazia che è utile ai cittadini ed è utile alle stesse forze dell'ordine. Allora qui noi non accettiamo quell'accusa che sta avanzando sui mezzi di informazione tramite dichiarazioni anche della Presidente del Consiglio e oggi anche, mi dispiace del Ministro Piantedosi, di strumentalizzazione. Se c'è qualcuno che sta provando a strumentalizzare quello che è accaduto, siete esattamente voi. E l'avete messo nero su bianco in queste ore, attaccando la sinistra come se fosse quella che fomenta. Ma fomenta cosa? Quella è la libera opinione delle persone e lo Stato, cioè tutti noi e voi come governo, ha il dovere di tutelarli insieme alla sicurezza pubblica. La libertà d'espressione è uno dei diritti che non deve essere comprimibile in una democrazia liberale. Vi chiedo, voi vi sentite in una democrazia liberale o no? Perché altrimenti c'è un problema. Noi stiamo cercando di tutelare i valori e tutelare le persone che quei valori devono difendere. Le forze dell'ordine e le forze di polizia hanno questo compito importantissimo. E questa è la ragione per cui sono così rilevanti. Perché hanno a che fare proprio con la democrazia, nella sua intimità, nella sua profondità. E allora io dico, ma voi, a parte le parole, ma cosa state facendo per le forze dell'ordine? Ma voi lo sapete che sono 800 giorni e per cui non dite potete farlo voi, perché è da mo' che siete al governo, che aspettano il rinnovo del contratto? Ma voi sapete che c'è un problema storico, questo è vero, di organico delle forze dell'ordine? Su questo, quando si mette mano? Ma voi sapete che sono 20 mesi che le forze dell'ordine non ricevano il pagamento degli straordinari, quelli in eccesso? Io penso che queste siano le cose centrali. E allora, visto che il Presidente mi avvisa che sto terminando il tempo, io dico una cosa. In questo momento, qua alla Camera, è incardinato un DDL sulla sicurezza, di iniziativa governativa a prima firma sua, Ministro Piantedosi. Lì dentro ci sono alcune cose. Io la direi così. Ne mancano molte. Siamo disponibili a ragionare su cosa mettere lì, anche con coperture economiche, a favore delle forze dell'ordine. E poi c'è una cosa che però non funziona. Si chiama articolo 11. Nell'articolo 11, il DDL a prima firma Piantedosi dice che non sarà più un illecito amministrativo, ma sarà un reato, cioè codice penale, il blocco della circolazione fatto dalle persone senza alcun mezzo, con il loro corpo. Il che vuol dire che se tre ragazzini si mettono a protestare davanti a scuola e bloccano il traffico, si beccano due anni di galera. E voi ci dite che in questo momento in Italia non c'è un clima che vuole limitare il dissenso. Voi mi dite che quelle circolari del Ministero dell'Istruzione non vogliono fare esattamente questo. E questa è l'idea che avete in testa. Noi abbiamo in testa tutta un'altra idea d'Italia. Grazie Colleghi Grazie